Dov'eri? Che cosa è successo l'ultima sera? La sera che non ricordo. Lo sai? Perché mi nascondi qualcosa? Non ti nascondo niente, tanto lo scoprirai come scopri tutte le cose. Io non sono il tuo nemico, io ti amo. Sì? E io invece amo bere. E adesso mi vado a prendere una bottiglia, l'apro e me la bevo tutta nello studio, va bene? E allora chiuditi a chiave! E affogateci! Perché non me lo impedisci? Perché? Va bene, vuoi davvero che te lo impedisca? Come devo che cazzo? In ospedale è la prima cosa di cui mi è tornata la memoria. È stato il nostro primo incontro. Te lo ricordi? Eh sì. Beh, non è stato di buon auspicio. Ci siamo incontrati in matrimonio, ti ricordi? E poi loro si sono separati. E poi loro si sono separati.